Una cappella vuota in totale stato di abbandono. È il triste destino del mausoleo Tonietti, progettato all'inizio del Novecento dall'architetto Adolfo Coppedè e che domina all'abitato di Cavo il canale di Piombino dal Monte Lentisco, nel tratto iniziale della grande traversata elbana. Fortemente voluto da Ugo Obaldo Tonietti, doveva essere una tomba di famiglia e un monumento in memoria del padre Gino, gestore delle miniere elbane fino alla sua morte, avvenuta nel 1894. Ma la concessione cimiteriale non arrivò mai e il mausoleo rimase così in balia della vegetazione e degli agenti atmosferici. Molti turisti che percorrono in mountain bike la GTE, incuriositi dalle segnalazioni per il mausoleo, restano amareggiati dallo scenario che trovano davanti a sé. L'edificio è stato lentamente divorato dalla macchia mediterranea. La scalinata che conduce all'ingresso ha ceduto, lasciando il posto enormi voragini. Le pareti scrostate e piene di graffiti. Ma ridotte e pericolanti anche le due scale a chiocciola, una in pietra e una in ferro battuto, per il piano superiore e per il terrazzo. La seconda, ormai arrugginita, è addirittura priva di diversi gradini. È impossibile da percorrere. Per contrastare il degrado del mausoleo Tonietti, la scorsa estate la soprintendenza delle belle arti di Pisa ha avviato le pratiche per riattivare il vincolo storico al monumento. Ma il sindaco di Riomarina, Renzo Galli, contesta le modalità con cui è stata presa l'iniziativa. La soprintendenza, dice il primo cittadino, ha agito senza interpellare minimamente il comune. Se ci avesse contattati avrebbe saputo che sono già in programma degli interventi, in accordo con la proprietà del mausoleo, e avremmo così potuto unire gli intenti.